Marra, se è inutile sottolinearlo e rimarcarlo, questo è uno snodo più o meno fondamentale in chiave playoff. Sicuramente noi da quella fine cerchiamo di fare il massimo dei punti possibili, è una parita importantissima, loro sono una grande squadra, abbiamo visto l'andata, giocano sempre col stesso modulo, 4-3-1-2, quindi hanno giocatori importanti. Come state? Stiamo bene, dobbiamo cercare di tornare a quelli che eravamo in girone d'andata, sempre sul pezzo, ma è una squadra che sta bene, dobbiamo cercare di fare il massimo perché abbiamo comunque gli obiettivi a pratato in mano. Perugia è una squadra molto strana, rendimento schizofrenico, possiamo definirlo così, perché perde in casa, vince fuori, soprattutto in trasferta nel giorno di ritorno, 4 successi in 5 sfide. Sì, come ho detto prima sono un'ottima squadra, hanno giocatori veramente importanti come Verre dietro le punte, Sadiq comunque davanti che è arrivato a gennaio che è un giocatore molto importante, anche dietro sono forti, quindi dovremmo dare il massimo e cercare di portare a casa i punti. Avrete la vostra comunque il calore, il sostegno del pubblico e non è poco? Sicuramente, come sempre abbiamo visto anche il derby ad Ascoli, sono venuti in tanti, noi siamo contenti e cerchiamo di fare il massimo anche per loro.